Questa è una macchina? Spero se tuoi Ma ti sembra modo di sparmirla dietro? Ti sembra modo? Mi piace eh? Perfetto Guarda casa è pure la bifta moto eh BF400 Oh guarda casa è la BF400 oscura dell'altra volta 100.000 dollari dai io a Gennaro No no che 100.000 dollari vai giù Ma Gennaro A casa tua comandi tu A casa mia comando io Grazie per i 20 mesi Grazie mille Grazie mille a Gassimone Mazza per i 1993 per il Prime E Bosta di Fave per i 7 mesi Grazie mille Baschi 3 grazie mille per i 2 mesi Grazie mille ragazzi Allora voglio dire una cosa Se io dico una cosa nel gruppo sub Non è che siete Grazie mille Grazie mille Costretti a spammare in attela Allora se mi trovo questo cicchia e un botto lo piglio altrimenti no Ai 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 Mi sembra che la figlia averda il Vip Si si è patito Oh mamma mia alle lui dici luas perché non lo merita ne cosa non è stato ma guardate che parla bello sinceramente senza rompere un cazzo a me da sta cazzo live è capito? fu un cazzo vabbè un po' onesto voglio non consegna a Milano da questo qua a Gennaro voglio un cazzo non faccio da lui cazzo se no chissà se la mezzo e dice troppo distante però se proprio Gennaro vuole un pollo esatto non che scadono i tre minuti però c'è balletto voglio vedere aspetta è caduta la sedia questo non è il balletto? non riesco a farlo vedere bene perché io che non capisco un cazzo di twitch inizialmente pensavo che tutti fossero una sorta di fratellanza bravo Nello eeeh c'è il momento che vuole chiedere una cosa no non entrerò nella camera però scusate paolo lore oi come va? lore mi manchi perché non vi è attreviso? ci sono delle carte false 5950x scalda vado giù mimmo anzi mimma vai a cacare mimma ciao andovo nivo ucce l'esce proprio scusami bello mo? è successo che volevamo farti uno scherzo con i tuoi dipendenti far finita che mi avessero rapita e però il punto è che un mio amico ha visto che ero in macchina con delle persone mascherate maaaaa gennavo ti prego vieni qua perché devi prendergli le cose dalle tasche hai capito gennavo? non è chiaro ascritto buonanotte 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 no 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 siiii yeah cioccolato caramello quello che non ti ho detto brucia forte nel mio petto chiudo la porta ed esco e ti giuro che non ti vento ma che freddo che fa sono maledetto forte dentro un letto e non respiro più e mangio ancora quel cioccolato e alle bollette non ci penso più oh ti giuro questa volta ci ho provato la forza peso mi ha portato giù non sono stato mai sincero oh cazzo lo sanno tutti tranne te la distante anni luce ma sei seduta accanto a me e non ti vedo più hai rotto il cazzo e mi piaceva il tuo vestito blu e mangio ancora questo cioccolato e le bollette non ci penso più ti giuro che stavolta ci ho provato la forza peso mi ha portato giù lo sai che ti odio ho rubato ho mentito ho tradito lo sai che ho sbagliato ho citato ho gridato ho fallito e mangio ancora quel cioccolato wow hoiggerato basta 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 vedi nel par�ato Niedi Nèi no 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 not sì ma dopo io voglio sapere chi è stato quello vicino al benzinaio che è andato dal giallo e ha detto otterrai la maschera non ti do un cazzo sei capace di portarmelo qui così risolviamo il problema a radici ma è tardi ma lo so domani ma noi che cazzo ci azzeccamo ma chi cazzo è quello maestro può dire al suo amico che ci manca tanto e che vorremmo eccoci qua dopo la sigla secondo me dovresti farlo per conquistarmi allora ecco a voi ecco a voi l'aracosta ti do tipo un verso vabbè no non ci faccio ecco a voi